Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, studio Marco Gargini. In A1 verso Bologna, due chilometri coda per veicolo fermo al chilometro 309 e 900, tra Incisa Reggello e Firenze Sud, coda a tratti tra Firenze Nord e Barberino di Mugello e rallentamenti tra Aglio e Firenzola. In A12 incidente la barriera di Rosignano verso Sud. Sulla strada regionale 429, variante di Certaldo, divieto di transito per la chiusura in entrambi sensi di marcia tra i chilometri 12 e 50 e 17 e 650 circa, nei comuni di San Gimignano, Gambassi Terme e Certaldo. Sulla strada provinciale 93 Certaldese, siamo nel territorio metropolitano di Firenze, chiusura al transito veicolare in entrambi i sensi di marcia tra i chilometri 7 e 600 e 8 e 900 circa, nel comune di San Casciano in Val di Pesa. Muoversi in Toscana è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, città metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio! Buon viaggio!